su Berlusconi, perché Berlusconi ha detto che voi dei 5 Stelle siete impreparati, non avete mai fatto nulla di buono né per voi stessi né per le vostre famiglie prima di entrare in politica. Vuole replicare? Sì, onestamente io non mai avrei pensato che Berlusconi facesse il giro delle 7 chiese televisiva a parlare di me, che poi nomina sempre me e Di Maio, ce l'ha con noi due, questi due non l'ho mai fatto niente. Anche perché siete i due che sono più in televisione. Comunque in effetti ti do ragione perché in passato non ho mai provato a corrompere i giudici, non sono mai stato condannato per frode fiscale e sbattuto fuori dal Parlamento interdettore dei pubblici uffici e non ho mai fondato un partito con Dell'Utre che è in carcere per mafia, quindi non ho fatto davvero niente, questo lì ricorda Berlusconi.